Sì, guardi, se mi consente, siccome ho sentito tante parole, innanzitutto mi lasci dire sulla legge del 2006 che ha fatto Roberto Castelli, che io ancora oggi voglio ringraziare, se la legge era così buona, perché il Partito Democratico e l'Italia dei Valori nel 2006 hanno avversato e hanno votato contro quella legge? Semplicemente perché c'è un'allergia cronica e storica da parte della sinistra rispetto al tema della sicurezza. Quella era un'ottima legge, faccio presente che dal 2006 ad oggi la Corte di Cassazione è intervenuta su quella legge, la legge 59 del 2006, che andava a incidere sull'articolo 52 del Codice Penale, con 139 sentenze, in parte smontando quella legge. Dopo dieci anni ovviamente la criminalità, come è stato detto, è ovviamente cambiata, la criminalità di oggi è ben peggiore rispetto alla criminalità di dieci anni fa, perché dieci anni fa entravano in casa per rubarti un bene, oggi entrano in casa non solo per rubarti un bene ma anche per farti violenza, quindi un tagliando a una legge di dieci anni con queste condizioni era necessaria. Perché dico che ho ascoltato tante parole e tante chiacchiere? Perché oggi il Parlamento, la politica, aveva l'occasione di poter dare una risposta migliorativa e estensiva della legge sulla legittima difesa. Ricordo al capogruppo del PD che nell'ultimo mese la legge sulla legittima difesa, io ero relatore, conosco bene la mia legge, conosco bene la non legge anzi del Partito Democratico, per ben due volte il Partito Democratico si è sottratto al confronto nell'aula del Parlamento chiedendo il rinvio di questa legge, dimostrando la non sensibilità rispetto alle parole che non sono le parole di Molteni o della Lega, ma le parole che fanno fede, sono le parole del signor Siciniano, ovvero le parole di migliaia, milioni di cittadini italiani che nemmeno all'interno della propria abitazione si possono, si sentono sicuri. Perché? Perché in questi anni il tema della sicurezza, in modo particolare in questi ultimi quattro anni il tema della sicurezza è stato dimenticato, cancellato da chi ci ha governato. Concludo dicendo, io credo che la proposta di legge della Lega, noi l'abbiamo presentata in Parlamento un anno fa, l'ho firmata io, sono primo firmatario, abbiamo chiesto la calendarizzazione della nostra proposta di legge a novembre, oggi siamo ad aprile, sono passati oltre sei mesi, in questi sei mesi potevano essere fatti tutti gli approfondimenti possibili e immaginabili. La nostra proposta è stata bocciata e stravolta, il Partito Democratico ha presentato una legge sostitutiva rispetto alla nostra e come adesso emerge l'articolo 52 è il tema della legittima difesa. Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge sull'articolo 59 che nulla ha a che vedere, non serve, non c'entra assolutamente nulla col tema della legittima difesa. Noi affermiamo un principio, che il domicilio è inviolabile.